Ciao e benvenuti in Immagina. Roberto Vecchioni è venuto il 24 marzo a Modica, al Teatro Garibaldi, ed è e faceva parte della giuria del certamen. Il certamen consiste in una prova scritta fra l'unico che frequentano il liceo classico e scientifico di tutta la regione. Ecco a voi l'intervista. Come si svolgerà questa serata? Sulle ginocchia di Giove, come si suol dire, nelle mani di Dio. Si svolgerà, credo, con qualche parola, perché io voglio, ho tanto desiderio di dire ai ragazzi quanto sia importante la cultura classica, in greco e in latino, e quanto debbano essere orgogliosi di questa cultura, perché hanno molto di più davanti degli altri, apre molto di più, danno tantissimo. E poi ci sarà questa premiazione di chi ha vinto il certamen, di chi è arrivato vicino a vincere, e un ringraziamento a tutti, perché i compiti che ho visto anch'io, le traduzioni che ho visto anch'io, sono fantastiche, soprattutto perché tradurre non è soltanto replicare, a vanvera qualcosa scritto tanti anni fa, ma è reinterpretare e rivedere un mondo e tentare di paragonarlo al nostro. Ma lei mentre insegna canta o mentre canta insegna? Questa è una cosa che si fa insieme, perché quando una persona è persona, ha tutto dentro, e quindi è indifferente che le sue espressioni siano in un modo o in un altro. Ma d'altronde anche quando abbraccio i miei figli o li bacio, ho la stessa forza emotiva di quando scrivo o di quando canto. Sono tutte cose che vengono fuori allo stesso modo. Se non hai forza emotiva, stai seduto, sdraiato e aspetti che il cielo ti mandi le cose. Ma allora quelli non sono uomini, come diceva Sciascia, sono qua, qua, da qua.